Giulierre per napoletano ha deciso di lasciarsi ad un'intervista raccontando le sue prime esperienze tanto è vero che racconta che i primi soldi che aveva fatto con la musica aveva deciso investirli tra virgolette per dei vestiti e darne anche parte al padre ti lascio l'intervista perché comunque degna di essere vista e fammi sapere la tua opinione sempre nei commenti iscriviti al mio canale youtube intanto una volta sono andato a casa tipo con un sacco di vestiti e 250 euro li butto sul tavolo e mi giro di cucinaio a mio padre dico pa ha freddo di piovere mi guarda mi sfonda di umazzate perché chissà che si era creduto di tutti quei soldi là sopra